Parliamo in via generale brevemente dei conti correnti cosiddetti offshore. Quali sono le principali caratteristiche e come si fa ad aprirli? Innanzitutto bisogna sapere che sono una possibilità offerta da alcuni stati, alcuni territori, solitamente di isole più piccole, di avere un conto corrente con un regime fiscale particolarmente conveniente. È importantissimo anche sapere che il fatto di aprirsi un conto corrente in un paese denominato paradiso fiscale non significa violare alcuna legge e alcuna norma. È altrettanto importante sapere anche che per farlo non è necessario disporre di ingenti patrimoni. Quali sono le principali caratteristiche di questi conti correnti? Le tasse sono più basse e alcune volte anche nulle. C'è il rispetto più assoluto del vincolo del segreto bancario. La regolamentazione è più flessibile, ci sono poche norme rispetto alle nostre. La legge libertà di movimentazione del capitale e il funzionamento di questi istituti bancari si attua H24 365 giorni all'anno, quindi sono aperti sempre. Il vantaggio più importante però è la possibilità di ridurre il carico fiscale sui nostri guadagni. Infatti il conto corrente offshore permette di avere una riduzione della pressione fiscale, una protezione rispetto all'eventuale instabilità politica, economica e finanziaria del nostro paese, la possibilità di diversificare i nostri investimenti e anche la protezione dei nostri beni da alcune azioni legali. Ognuno dei diversi stati ha la sua giurisdizione e le sue specifiche norme. In base a queste e in base alle nostre finalità dovremmo scegliere. Facciamo un elenco non esaustivo di alcuni stati che offrono i conti correnti offshore, ad esempio le isole Cayman, Panama, Hong Kong, la Svizzera, l'Austria, Singapore, Antigua e via dicendo. Come si fa però? Innanzitutto ci sono delle regole da rispettare e alcuni requisiti. È possibile anche aprire un conto corrente senza recarsi fisicamente nel luogo ma via mail. E un'altra importante informazione, quanti soldi servono? Attenzione perché alcuni stati richiedono un deposito molto alto di almeno 2 milioni di dollari, altri invece molto molto meno.